Quante volte ti capita di sentirti... Intensamente e incredibilmente romantica? Oppure che hai voglia di essere pazza, gridare e sentirti rock? O in quei momenti in cui sai di essere... sexy? 090 parrucchieri! Tira fuori il meglio di te, sempre! Antonio via Ettore Lombardo Pellegrino 13 Carlo via Pietro Castelli 13 Salvo via La Farina 177 Toni via Del Santo 15